Finisce 3-1 la partita di questa sera, partita equilibrata soprattutto nel primo tempo, anche nel secondo avete avuto le vostre occasioni sull'1-1, poi avete preso il 2-1, non siete riusciti a riprendere poi l'espulsione nel finale, la compromessa? Decisamente, loro conoscono meglio il campo, hanno giocato nettamente meglio di noi no, comunque un po' superiore, hanno fatto il loro gioco, noi non riuscivamo a venire incontro anche perché abbiamo due o tre inserimenti nuovi, quindi ancora dobbiamo amalgamarci, comunque tutto sommato direi che per essere la prima partita non è andata male, al di là del risultato che potevamo magari pareggiare, però bravi loro che l'hanno tenuta e l'hanno portata fino alla fine. Sì esatto, come hai detto te la prima partita ti chiedo cosa c'è da migliorare anche rispetto magari alla stagione scorsa? Beh, abbiamo cambiato il tipo di gioco perché l'anno scorso avevamo una punta fissa che giocava lui lì davanti, adesso non ne abbiamo così e con questi tre giocatori nuovi, visto che tanti di quelli un po' più esperti sono andati via, questi sono più giovani e bisogna soltanto giocare, giocare, giocare e pensare a giocare. Ragazzi pensate a giocare, non facciamo altro perché sennò veramente diventa una tristezza. Sì infine ti chiedo qual è l'obiettivo della stagione, se la salvezza oppure ambite anche a fare... Ma io opterei, personalmente poi chiederò al mister se conferma, almeno almeno alla metà, poi se riusciamo a salire di più meglio. Ok, grazie mille e bocca al lupo! Grazie a te!